Il miglior femmina italiana ha fatto miglior femmina a Reggio Emilia e miglior femmina a Reggio Emilia Ma questa dici questa rossa? Ma i piedi sono normali così gonfi? Sì, quello nero è andato scappato Questa è la mamma di Corindaco Lì la femmina Va spravando E vogliono accoppiarsi già Ah, così si accoppia un po' Ah, quello nero? Quello è il campione? Indaco, nero, Corindaco Questo qui è fatto campione nel 2016 Campione nel 2017 Ah, quindi campione per diversi anni Cosa? Per diversi anni Sì, sì Questo qui a me fa un pazzire il combo Ah, un bel Buon, concludiamo con il video Ben bello E poi non volano chiaramente Perché sono... C'è qualcuno I giovani Che magari qua ci arriva Ma questi qua Cioè c'è qualcuno Che fa senti in carriera qui, eh? Sì, sì Alcuni, sì Ma immagino Immagino, dai Non piace E poi direi E poi andiamo a vedere il video Che vi piace Per non riuscire 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 E poi andiamo a 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 riuscire Per non riuscire